Hanno sbaraiato la concorrenza delle altre province della regione e di quella di Potenza e si sono portati a casa il titolo e il diritto a partecipare alla finale nazionale di Edil Trophy 2023 in programma a Bari dal 19 al 21 ottobre in occasione della SAI e Fiera Nazionale del settore costruzioni. Fiorentino e Angelo Sellitto di Prato la Serra sono i migliori muratori della Campania. Presso la sede del CFS di Contrada San Lorenzo da Tripalda che è stata scelta in Campania per Edil Trophy 2023 che si è trasformato in un vero e proprio cantiere a cielo aperto, Fiorentino ed Angelo Sellitto hanno realizzato il manufatto, un pilastro in forma elicoidale nel minor tempo possibile e sono stati giudicati più bravi anche dal punto di vista tecnico e della sicurezza sul lavoro. Presenti all'evento due classi dell'Istituto per Geometri Oscar D'Agostino di Avellino, quarta e quinta, nonostante il giorno libero, hanno assistito alla manifestazione accompagnati dal professore Maio e dal dirigente Caterini. Presenti anche il sindaco di Atripalda Spagnolo e il direttore Ancelinda Paiuca. L'ottima organizzazione, curata dal CFS con il presidente Edoardo De Vito e il direttore Gianni Solimine, ha ricevuto applausi e consensi da parte di tutti. L'obiettivo è stato quello di promuovere l'immagine sul piano regionale e nazionale del settore edile in merito alla valorizzazione delle abilità e delle competenze dei lavoratori.